siamo nei pressi del col del nivole quella la strada che viene su e questo è un bellissimo agnell con la sua bella paretina scoscesa, guarda che delizia e di qua volendo ci si può anche andare guarda cosa c'è qua e lì c'è proprio il passo e siamo a 2,6 e qualcosa è spuntato il sole ma guarda un po' guarda che gran paradiso, che gran paradiso grazie